Il nuovo facile Facilea 1 Unità 5 La casa La casa di Asif Io vivo con mio fratello e un amico in un palazzo di 5 piani con l'ascensore Io abito al quarto piano È abbastanza grande e luminoso Quando entri c'è un corridoio A destra ci sono il soggiorno e una camera da letto grande A sinistra c'è la cucina con un balcone e una camera da letto piccola In fondo al corridoio c'è il bagno, senza la vasca, con la doccia Ogni stanza ha una finestra Quindi in tutto l'appartamento c'è molta luce Non c'è il garage Ma c'è un posto per le biciclette Di fronte al palazzo c'è un supermercato Dietro c'è un piccolo parco Di fronte al palazzo c'è un piccolo parco